Ciao a tutti da Marco Fullone, benvenuti su Collector's Edition, qui su radiomontecarlo.net Abbiamo un'ospite straordinaria, Carmen Consoli, benvenuta, ciao Carmen Emozione qua, brividi Devo dire, sì Grazie anche a Nick the Nightfly che ha presentato il tuo live in studio, veramente una bellissima esperienza Senti, io voglio far vedere subito il tuo ultimo disco, che è una raccolta, che si chiama Per niente stanca E mi viene in mente una cosa curiosa, che tu sei passata da mediamente isterica a per niente stanca Infatti una che è mediamente isterica, secondo te si rilassa mai? Senti, tu hai veramente un fan club incredibile, sei veramente un'artista molto molto amata E giustamente perché sei bravissima a regalare emozioni, credo che sia una delle cose più belle che uno possa fare Raccontaci solo due piccoli anedditi, siccome i nostri amici in genere sono sempre molto curiosi Vogliono comprare delle cose particolari da collezionare Per esempio, sul nuovo disco ci sono alcune cose che non sono presenti nei tuoi album Sì, c'è un brano che avevo scritto per Celentano, una versione che avevamo realizzato quando gliel'abbiamo mandata Che sarebbe, scusate? Anna Magnani, che è una canzone che ho scritta insieme a Cerami Di cui vado molto orgogliosa Perché è una collaborazione molto bella Poi sai, collaborati Sai, io ho sempre amato Celentano e avrei avuto la possibilità di scrivere una canzone per lui Con Cerami Insomma, diciamo E poi nulla non ha mai ascoltato questo pezzo? Sì, l'ha ascoltato e l'ha fatta anche nel suo disco Ah, l'ha fatta? Ah, ecco Sì, sì Benissimo Poi, per esempio, c'è una versione Consoli del brano che tu hai fatto con Combattiato Tutto l'universo obbedisce all'amore Ecco, dove c'è qualche strofa più cantata da te rispetto a quella del disco Sì, sì, perché in realtà sono sempre esistite due versioni E con Franco ci siamo detto giochiamocene in tempi diversi Ecco, poi c'è il pezzo con Goran Ma la versione che invece avevi fatto con Goran cantata in siciliano invece non l'hai inserita qui Non hai deciso di... Poco di raggia Sì O una o l'altra Ah, ecco Pensavamo, no? Di lasciare spazio Ho capito Senti, invece questo qui è... Nel prossimo best Nel prossimo best, va bene, fa dieci anni Questo invece, diciamo, era il decennale, diciamo, dalla realizzazione del tuo album nel 1998 E' stato ristampato nel 2008 E credo che sia anche il primo disco del Luxe Edition mai realizzato in Italia Così mi hanno detto fonti molto autorevoli Ecco, di questo album, cos'è che ricordi in modo particolare? Io ricordo questo cantinone di Francesco Virlinzi Era la sua casa a San Gregorio E' il mio primo produttore E amava invitare gli artisti in questa casa di campagna bellissima Che si affacciava sul mare Per cui gli artisti avevano modo di ispirarsi Era una specie di factory Ed erano delle... Si creavano dei veri e propri laboratori E ricordo queste registrazioni Allora si registrava col nastro Infatti Mediamenti Sferica è registrata sul nastro Ma come il resto di tutti gli altri miei rischi Perché io sono all'antica Per esempio io ancora il tennis lo gioco come una volta Con localizzazione Insomma il top spin non l'ho imparato Ecco, io ho un'impostazione antica anche nella registrazione degli album Per cui ho il mio studer, il mio studio I miei nastri dove perlomeno passiamo le batterie, i bassi, tutti gli strumenti per dare calore Poi ovviamente ci serviamo anche della tecnologia Questo disco aveva questa particolarità Una band giovane, la mia Che è ancora la band che mi porto dietro Quindi dopo dieci anni celebra anche la storia di amicizia Tra me e i ragazzi che fanno parte della mia storia Ho missato di nuovo e ricantato Non ero contenta dei cantati E quindi questa è l'occasione Avevo cantato male secondo me Me la sono voluta, siccome ancora è attuale questo disco per me Assolutamente Mi sono voluta togliere questo piacere di cantarlo Beh, ci piace conoscere questa parte analogica anche della tua carriera Che è veramente straordinaria Va bene, io ti ringrazio Grazie a te È stata come sempre una grande emozione averti Alla prossima Ciao Alla prossima, ciao